ciao amici massimiliano per the geekers e prova video del meizu m5s e della sua videocamera cominciamo con un bello zoom su quell'antenna laggiù e lo mettiamo a fuoco velocissimo direi abbastanza buono mi aspetto di sentire anche un ottimo audio devo vedere giornata brutta e grigia inquinamento è veramente con condizioni di luce particolari andiamo ancora a fare zoom su quell'albero laggiù e lo mettiamo a fuoco abbastanza veloce facciamo una cosa particolare approfitto cammino così vediamo come reagisce e mi riprendo in questo specchio per parcheggi ciao ancora un giro come vedete il cielo è molto 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 grigio andiamo a vedere il segnale del divieto di sosta per il contrasto colori come vedete si vede molto poco andiamo a mettere un po a fuoco e via meizu m5s prova video massimiliano per the geekers ciao